Ciao amici miei, benvenuti nel canale, se tu non sei iscritto al canale. Iscriviti al canale per non perderti nessuna novità della più grande squadra d'Italia. La Juventus sta monitorando da vicino il portiere Guglielmo Vicario. La Juventus vede Vicario come il suo futuro numero uno. Il portiere di 26 anni continua a mostrare buone prestazioni in Serie A. Recentemente, il direttore dell'Empoli, Pietro Accardi, ha ammesso che il portiere è pronto per una grande squadra, dando a intendere che un affare tra Juventus e Empoli potrebbe accadere. Per la Juventus, il portiere toscano di 26 anni è la migliore opzione sul mercato per risparmiare sul salario, in caso di uscita di Perinos Cesni. E voi tifosi della Juventus, vorreste Guglielmo Vicario nella Juventus? È un buon portiere. Fatecelo sapere nei commenti.